Buonasera Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali e ricordiamo che da ieri per i lavori di realizzazione della sede tramviaria in Viale Fratelli Rosselli il cantiere sarà allargato prima dalla parte di Via Guido Monaco con il mantenimento di due corsie. Buon versi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!